Vergogna! Italiano 4, matematica 5, geografia 5 e addirittura educazione fisica e arte 4. La bambina si distingue soltanto in logica. Che vuol dire? Ma tutto il resto leggo solo insufficienze. Vergogna! Tu mi avevi promesso che avresti studiato così tanto da diventare la prima della classe, giusto? Giusto. E io ti avevo promesso che se avessi preso brutti voti ti avrei sospeso la paghetta settimanale, giusto? Sì, papà. Ma come vedo tu non hai mantenuto la tua promessa. No, papà. E sai questo cosa significa? Che a questo punto io non posso pretendere che tu mantenga la tua. Esatto. Non ho capito. Io la mia non l'ho mantenuta e tu la tua la mantieni? La tua promessa è di darmi la paghetta se prendevo bei voti. Che fai? La mantieni oppure no? Ma assolutamente no. No che non la mantengo. Non se ne parla proprio. E lo sapevo. Grazie, papà.